Come va? Maria è molto buona Ma è giù Ma è giù una cosa? 1,5 e 3 Buona Però io dico Io dico un'altra Questo non lo so Io so che il centro adesso Nel sud fanno cappotto Sai che può succedere? Il centro del sud Che dico a tutti i colleghi Ma non lo so Ma non lo so Completamente Completamente Quindi spero che prenda il vento No Ma dai Io ti dico che nel sud Campania, Calava No, no, infatti Grazie 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 Grazie